Mi chiamo Mario Orlandi e lavoro per una multinazionale nel settore dei semiconduttori che è leader mondiale dal 1979. Ho iniziato la collaborazione con Francesco quando ancora ero un giovane programmatore rampante, io me lo ricordo che era molto molto giovane, però già dimostrava le capacità professionali che poi nel tempo ha confermato, creando anche una società sua. Diciamo che l'inizio della collaborazione fu quando lui lavorava per un'altra società che ci diede supporto per lo sviluppo di sistemi documentali, di tool per il calcolo degli score della comunicazione, intendo dire che venivano calcolati i valori dei comunicati o articoli internazionali per avere un'idea di quanto fosse veritiero che la comunicazione viaggiava in parallelo con il marketing. Oltre a quello che è la parte tecnico-tecnologica, Francesco ci ha aiutato molto anche nello sviluppo di quello che è il discorso sociale. Noi abbiamo una fondazione che si chiama ST Foundation che si occupa di digitalizzare con l'istruzione nei paesi più poveri, la conoscenza dei vari sistemi per pubblicare, creare documenti, eccetera. Ogni qualvolta ho la possibilità di avere una collaborazione con DF Tech, la propongo sempre.